ciao a tutti amici dei pesci benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi sono le previsioni affettive per la prima parte di maggio 2022 sono previsioni di gruppo quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare in descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme al messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi bene mostrami pesci tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022 grazie la stella bene cari amici dei pesci la stella parla di obiettivi parla di quelli che sono i desideri i sogni i sogni sia ad occhi aperti che quelli ad occhi chiusi ok quindi potrebbe anche far riferimento a quello che è uno sviluppo delle doti di chiaroveggenza perché comunque la stella ha un riferimento al al terzo occhio che sarebbe stesso chakra quindi parla anche di quello che è in un certo senso la capacità di visualizzare di manifestare di percepire ecco attraverso i sogni attraverso tenendo gli occhi chiusi diciamo così abbiamo poi dipendenza reciproca wow situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale probabilmente qui c'è una sorta di o attesa nei confronti delle decisioni dell'altro o qualcosa per lo stile poi abbiamo nuovo amore una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti wow quindi interessante questa stesa andiamo a vedere che cosa dico nei tarocchi perché qui per qualcuno si può parlare di quello che una relazione già in essere dove c'è una sorta di dipendenza affettiva reciproca o un qualche tipo di dipendenza magari fisica all'interno della relazione che condiziona e per qualcun altro si potrebbe trattare di quello che un nuovo amore oppure le due cose insieme un nuovo amore che crea dipendenza andiamo a vedere con i tarocchi che cosa ci dicono ok abbiamo la carta dell'appeso al contrario la carta del mondo il 5 di bastoni la regina di bastoni e la carta della stella un'altra volta tanti arcani maggiori allora abbiamo un appeso al contrario qui qualcuno ha cambiato modo di vedere le cose o potrebbe parlare di uno sblocco di una situazione di un vostro modo di pensare appunto di un vostro modo di percepire le cose come se l'appeso normalmente quando è girato al contrario parla di una fine della sofferenza ok e difatti poi abbiamo la carta del mondo la carta del mondo parla di un cambiamento parla di quello che è un compimento i movimenti del mondo perché comunque potrebbe anche parlare di quello che è un trasferimento un trasloco un viaggio lungo comunque i movimenti del mondo sono movimenti che arrivano piuttosto velocemente sono cambi comunque positivi portano comunque a dei risvolti positivi nella vita e sono cambi che portano appunto al compimento a un appagamento io sento che comunque ci sono ancora dei conflitti con questo 5 di bastoni potrebbero essere conflitti magari con degli amici o delle persone che vi stanno intorno insomma e abbiamo questa regina di bastoni a metà stesa che mi dice un po che non state sfruttando bene il vostro potere personale per qualcuno invece si tratta di quello che è una passione che probabilmente è un po magari latente è come se non riusciste a esprimere quello che il vostro lato femminile andiamo a vedere poi dopo con i militari occhi di che cosa si tratta la carta della stella parla come vi dicevo già all'inizio di desideri parla di sogni parla di speranze seguiamo con un otto di coppe che di nuovo una carta di movimento come quella del mondo quindi potrebbe essere perché per qualcuno si parli di un trasferimento uno spostamento comunque lotto di coppe parla di un movimento è una carta di viaggio diciamo così ma parla anche di quello che un viaggio interiore parla di una ricerca spirituale se considerate che comunque la stella fa riferimento anche a questa diciamo apertura di capacità psichiche magari di chiaroveggenza questa zona dell'assesa potrebbe fare riferimento a un vostro lavoro proprio interiore andiamo a vedere come finisce la stesa e abbiamo tre carte la ruota della fortuna il 5 di pentacoli e il 7 di pentacoli al contrario allora diciamo che finisce quello che un periodo di staticità con questa ruota della fortuna a fine stesa accompagnata dal 5 di pentacoli e del 7 di pentacoli al contrario sento che per qualcuno il ruolo statico è finito c'è qualcuno qui che diciamo così si sta tirando su le maniche per creare quello che una nuova realtà per creare quello che un nuovo amore per creare quello che un nuovo se mi verrebbe da dire perché sento la stella in questo caso che proprio è una carta di guarigione per voi in questo periodo ripeto avete la carta del appeso al contrario e la carta del mondo qualcosa dentro il vostro modo di pensare dentro voi stessi cambia in modo profondo andiamo a vedere nello specifico di che cosa ci parlano queste carte spiegatemi la presa al contrario per piacere grazie ho intravisto qualcosa di bastoni adesso quello scopro ok 3 di bastoni al contrario e 3 di coppe si sblocca qualche cosa a livello dell'intorno sociale io credo che voi avete probabilmente c'è un inizio di comunicazione un inizio di partecipazione a quello che è un po la vita diciamo del vostro intorno sociale mi verrebbe da dire in realtà è un po un uscire allo scoperto a livello di emozioni aprire cuore mi verrebbe da dire però a livello pratico livello fisico non state ancora mettendo nero su bianco quelle che sono le vostre intenzioni quelle che sono le conclusioni che avete diciamo così tratto dal periodo appeso io ma vedere la carta del mondo per piacere grazie abbiamo un 5 di spade la carta della regina di spade è un fante di spade qui cambia credo che sia riferito a quello che è il vostro controllo su voi stessi sui vostri pensieri tutto quello che era il lavoro di cui si parlava qui con il matto il fatto che vi siete confrontati con gli amici magari piuttosto che il fatto di rendervi conto che certi progetti comunque non partivano o non sono partiti perché comunque abbiamo questo tre o magari sono partiti ma non hanno dato i risultati che voi vi aspettavate sento che comunque qualche cosa qui si sblocca cambia il vostro modo di pensare cambia il vostro modo di percepire gli altri di confrontarvi con gli altri il vostro modo di controllare anche voi stessi quelle che sono le vostre emozioni è una sorta di rigidità sento che cambia nonostante ci siano 25 perché c'è un 5 di spade un 5 di bastoni che comunque indicano conflitti magari il 5 di spade sono più conflitti interiori mentre il 5 di bastoni sono più conflitti magari proprio con quegli amici con cui vi siete confrontati oppure visto che abbiamo comunque la sacerdotessa al contrario e la morte al contrario sono conflitti interiori c'è qualcuno che non vuole ascoltare il proprio istinto non sta prestando attenzione a quello che sente ed è per quello che probabilmente avete la stella qui perché proprio quel lavoro lì che dovete fare di mettervi in ascolto di sviluppare diciamo così il lato percettivo il lato intuitivo perché anche la morte che normalmente parla di rinascita parla vi ricordo che qui avevate il cambiamento chiusura di un ciclo apertura di un ciclo nuovo però c'è ancora qualche cosa che fate fatica a lasciare indietro con questo 5 di bastoni siete combattuti e magari potrebbe essere un qualche tipo di perché normalmente i 5 di bastoni fanno anche riferimento al lavoro quindi a quello che è il lavoro fisico proprio quindi potrebbe essere un qualche tipo di conflitto inerente il tipo di lavoro che si sta svolgendo magari in generale o magari all'interno di questa relazione di questa situazione comunque diciamo che iniziamo con un vostro cambio di percezione della realtà di voi stessi un vostro modo cambio nel modo di porvi anche sento andiamo avanti vediamo questa regina di bastoni per piacere grazie abbiamo un 9 di pentacoli e un 5 di coppe credo che questa regina di bastoni il fatto che vi commentavo prima di non sentirsi troppo femminili piuttosto che di non riuscire a elaborare lavorare utilizzare se vogliamo quello che è il proprio fascino femminile la capacità sento che qualcuno non si sente così donna così femmina o se fosse se foste scusate un uomo e il vostro lato di femminile il vostro lato diciamo percettivo non è così tanto sviluppato non è così tanto ricettivo diciamo così ok è come se il vostro potere personale femminile fosse un po' bloccato per qualcuno mi parlano di di problemi proprio a livello di espressione sessuale andiamo a vedere questa stella per piacere grazie questo nuovo amore quando arriva che qui abbiamo la carta del nuovo amore ma quando arriva forse non la vedete ok sette di bastoni al contrario il re di denari eccolo il nuovo amore io credo che qui con la stella qualcuno nutre ancora delle forti speranze verso questo re di denari che dipendendo dalla vostra situazione personale potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse magari con la quale avete fatto questo tipo di lavoro potrebbe essere la persona di cui parla questa carta quindi questo nuovo amore andiamo a vedere questo 8 di coppe questo 8 di coppe con la forza e il 4 di bastoni io lo sento come un prendere coraggio come vi posso dire di intraprendere questo nuovo cammino con questo 4 di bastoni perché il 4 di bastoni parla di un'unione felice parla del fatto di trovare la forza per intraprendere questo viaggio verso la stabilità verso la serenità io credo che questo viaggio sul quale comunque le carte vi consigliano di focalizzarvi includa questa prima parte dell'assesa perché comunque qui state realmente facendo un lavoro su voi stessi anche se potete la potete migliorare è perché comunque abbiamo la carta della sacerdotessa che al contrario però già il fatto che ci sia l'appeso al contrario tutto questo cambio nel modo di vedere le cose io sento che siete già in una fase di lavoro interiore andiamo a vedere la ruota della fortuna al 5 di pentacoli e 7 di pentacoli guardate avete anche la carta degli amanti il fante di bastoni il papa e l'appeso al contrario di nuovo sblocchi 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 cambiamenti e ruota della fortuna il mondo il destino che è l'universo che lavora per voi e guardate la ruota della fortuna io sento che state andando verso quello che è la stabilità verso quello che è un'unione felice verso quello che è un equilibrio ok il fante di bastoni mi parla di quello che è l'entusiasmo all'interno di questa relazione d'accordo e di nuovo c'è il papa il papa mi parla di un ufficializzazione potrebbe essere un viaggio verso quello che è una convivenza quindi una stabilità per qualcuno potrebbe essere un ufficializzazione come un matrimonio semplicemente riuscire a portare a galla quello che è una sensazione un'emozione un desiderio o un cambiamento ok qui di nuovo avete l'appeso al contrario si sblocca qualche cosa sta cambiando qualche cosa in questo periodo sento che questo nuovo amore collegato con questo re di pentacoli e sicuramente una persona di tipo concreto è una persona che sa il fatto suo insomma avete la ruota della fortuna quindi andate verso quello che è un nuovo tipo di equilibrio un nuovo ciclo karmico ok wow che bella stesa amici dei pesci sì probabilmente voi qui non vi sentite nel pieno potere ma io credo che sia solo una vostra impressione per come voi vi percepite in realtà avete un 9 di pentacoli quindi per qualcuno potrebbe essere che non ci si sente abbastanza nel proprio potere personale a livello economico a livello pratico ok e questo blocca anche un po quello che è la vostra passionalità magari il vostro lato femminile il vostro lato di conquista mi dicono stavo cercando di capire perché a parte questo 5 di denari che l'unica carta che mi può un po parlare di di questa dipendenza reciproca di cui si parlava qui però sento che essendo vicino alla ruota della fortuna qualcuno qui si è stufato non ha più pazienza con questo set di pentacoli al contrario di non ha più voglia non ha più sì appunto non c'è più la pazienza di aspettare di aspettare l'altra persona si vuole un rapporto equilibrato adesso si vuole l'entusiasmo di quello che la relazione di quello che è l'unione di quello che è l'ufficializzazione il riconoscimento da parte della società ma si va verso quello che è una stabilità ok bene andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di osho io intanto ne approfitto per comunicare che ho attivato anche il numero di telefono per le consulenze telefoniche sono consulenze di un'ora e se vi interessasse per notarne una con me potete scrivermi un'email e trovate l'email nella descrizione qui sotto al video allora abbiamo sperimentare e divertimento che sarebbero un tre di bastoni che avevate qui è un fante di bastoni che avevate qui quindi per certi versi la vostra parte conscia sa di dover sperimentare è un po come se qui vi dicessero abbi coraggio ok lo sperimentare è anche un po collegato alla carta della stella perché si è vero bisogna desiderare bisogna focalizzare i propri obiettivi i propri desideri ma poi bisogna anche fare dei tentativi perché non è che le cose escano sempre come noi le sogniamo quindi bisogna anche un attimino fare delle prove vedere che cosa è più in linea con noi stessi ed è un po sento quello che state facendo voi con questo lavoro di resta i ling di riassessamento mentale che state facendo qui no l'inconscio è rappresentato dalla carta del divertimento ovvero dal fante di bastoni mi parla di entusiasmo mi parla di voglia e anche bisogno di divertirsi ok mi parla anche di passione perché comunque è un fante di bastoni quindi potrebbe proprio fare riferimento questo nuovo avore un amore che voi state cercando di materializzare di visualizzare di concretizzare insomma bene un ultimo messaggio da parte delle fatine io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con il loro like con una condivisione un commento con l'iscrizione insomma grazie tanto e se non siete ancora iscritti questo è il momento giusto di farlo ho anche suonato coerenza c'è una fatina che si guarda allo specchio qui parla proprio di quello che è essere coerenti con se stessi quello che penso è la stessa cosa che dico ed è la stessa cosa che faccio mi comporto come dico e come penso perché avere questa sorta di coerenza guardarsi allo specchio ed essere diciamo così avere la coscienza a posto ci porta quello che è un allineamento cari amici dei pesci questo quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao